Il Giro d'Italia Come è l'emozione per vincere il Giro d'Italia? È grande, è molto speciale e mi ricordo ancora di tutto il giorno. È stata un'esperienza meravigliosa. Ti piace la ruta del prossimo anno? Non mi piace la ruta del prossimo anno? Non, mi piace la ruta del prossimo anno. È molto difficile, è molto diverso da l'anno scorso. Ha un po' meno di chilometri, che non è perfetto per me. Ma inoltre, è molto bello. Non ti piace la ruta del prossimo anno? Ho giocato anche le montagne. Ho fatto molto bene in alcune montagne. Quindi non ho paura di un corso che abbia meno chilometri. Ma ovviamente è più difficile. Ma è un'opportunità più interessante. È di fretta dire andare nella settimana. Oggi c'è la ruta di un corso che dovràvemosle ov